È l'amore che ci lega a Giulia, che da noi ha detto mamma per la prima volta a otto anni. È l'amore che ci lega a Fabio, che da noi ha trovato una casa per la vita. È l'amore che ci lega a Nicole, che alla fine di ogni trattamento già non vede l'ora di tornare. Alle persone sordoceche e pluriminorate psicosensoriali ci lega la passione per andare oltre l'isolamento. Con impegno e competenza, lavoriamo per trovare quel filo invisibile da trasformare in speranza per loro e le loro famiglie. È un filo d'oro che è nelle tue mani a Natale più che mai. Rendi questo Natale ancora più prezioso e dona un futuro a chi non vede e non sente. Grazie a tutti.